Allora noi abbiamo definito l'area 6 attraverso quello che è uno strumento concordato con la Regione Emilia Romagna attraverso una variante e quindi quella è l'unico luogo deputato ad avere destinazione ospedaliera. Se si volesse cambiare idea oltre a smentire il percorso che la stessa Regione ha fatto insieme a noi a mio avviso si rischia di perdere quelli che sono i fondi già destinati 240 milioni di euro sul nuovo ospedale e io penso proprio che questo non sia serio. E quindi non ci possiamo permettere di perdere ulteriore tempo anche perché questa città ha pagato tanto in termini di salute e di sanità con il covid e allora insomma seriamente affrontiamo le cose per come sono e rispettiamo quello che è uscito dal Consiglio Comunale.